Un'occasione per promuovere e far conoscere meglio il patrimonio archeologico molisano oltre i confini regionali, l'ha offerta l'Associazione Italiana per lo studio e la conservazione del mosaico. Ha deciso di organizzare a Esernia, nella sede dell'Università del Molise, i lavori del convegno annuale. Per il presidente dell'AISCOM, Federico Guidobaldi, la scelta non è casuale. C'è una parte preistorica molto importante. La città romana è anche questa importantissima e la città medievale lo sarebbe stata e purtroppo a Esernia tutti sappiamo che è una città ferita, più volte ferita ripetutamente da terremoti e soprattutto dal terribile bombardamento del 43 che certamente ha distrutto una buona parte del tessuto urbano. Cioè nonostante la prima impressione è che effettivamente la città si è molto recuperata, ha salvato tutto il salvabile. Si vede che è una città di cultura e abbiamo visto spesso che le città più piccole e sono città di cultura molto spesso più delle città grandi. È una cosa che non prevedevamo e quindi ci fa molto piacere. Poi l'accoglienza è sempre molto cordiale, la popolazione partecipa di più. A lanciare la candidatura di Sernia ha provveduto Fulvia Ciliberto, docente di archeologia dell'Ateneo Molisano, in prima linea in un progetto di catalogazione informatica dei mosaici presenti in regione. Quali sono le novità per certi versi inedite del Molise? Ma intanto alcune decorazioni finora non attestate in altre regioni oppure delle datazioni nuove, cioè per esempio rialzate, per cui certi mosaici sono datati in un periodo più antico e questo è molto importante perché c'è tutta una realtà appunto sannitica e sannitica romana che deve venire fuori, non solamente la realtà di età gustea, cioè imperiale, pienamente romana, ma c'è tutta una realtà anteriore che esisteva e importante, che va ripescata.